Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Perusa Inter News. Gli argomenti che affronteremo oggi del calcio e mercato in casa Inter riguardano Berni, Bettella, Politano e Bastioni. Berni, il portiere, ha rinnovato con la società nero-azzurra fino al 2019. Bettella, l'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo del difensore di classe 2000, quindi all'Inter vanno 7 milioni e mantiene il diritto di ricompra. Politano, come già annunciato nella scorsa puntata di Perusa Inter News, l'Inter si è assicurato l'esterno italiano. Il giocatore domani sosterra le visite mediche. Nella trattativa è stato inserito Odegaard e l'Inter ha il diritto di riacquisto fissato a 10 milioni. Bastioni, firmato il contatto con l'Inter, si sta aspettando una proposta da una squadra per poter crescere e fare esperienza. Ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo domani con un'altra puntata di Perusa Inter News. Ma prima di salutarvi, volevo salutare il mio amico Cata, Andrea Grosto e Max Colombo di YouTube. Un bacione a tutti ragazzi!